ben trovati in questo video parleremo degli spread orizzontali altrimenti chiamati spread di calendario gli spread orizzontali possono essere costruiti sia a debito che a credito a seconda che il premio pagato sia maggiore o minore di quello ricevuto vengono definiti orizzontali o di calendario esclusivamente perché vengono costruiti comprando e vendendo opzioni sugli stessi strike ma impiegando scadenze diverse ci si muove quindi orizzontalmente tra le scadenze guardiamo innanzitutto il profilo di rischio di un calendar spread è una strategia che consiste nell'acquistare una opzione a scadenza più lunga e nel vendere un'opzione a scadenza più breve in questo caso abbiamo simulato l'acquisto di una call a 160 giorni e la vendita di una call a 40 giorni questa strategia viene montata utilizzando opzioni dello stesso tipo o tutte call o tutte put e in corrispondenza dello stesso strike quindi il profilo di rischio è il medesimo sia che la montiamo con opzioni call sia che la montiamo con le opzioni put concentriamoci quindi sul payoff nel caso degli spread di calendario avendo due scadenze l'atnao rappresenta il qui ed ora della nostra posizione ma il profilo di rischio a scadenza è solo una stima di come potrà essere il rischio della nostra posizione entro la prima scadenza ovvero fra 40 giorni infatti sarà impossibile sapere con precisione quale sarà il prezzo della call che abbiamo comprato dal 41 del mio giorno in poi infatti il profilo di rischio si trasformerà in quello di una call comprata con 120 giorni di vita residui questa strategia possiamo dire che trae beneficio dal maggior decadimento temporale dell'opzione venduta a scadenza più vicina mentre l'opzione a scadenza lontana tenderà a conservare maggiormente il proprio valore tra 40 giorni a parità di altre condizioni il prezzo dell'opzione venduta sarà zero mentre il prezzo dell'opzione comprata sarà teoricamente di 70 euro in ragione del fatto che il decadimento temporale è percentualmente maggiore più ci si avvicina la scadenza quindi avremo un guadagno di 30 euro potremo addirittura vendere una nuova call a strike mille con una scadenza sempre di 40 giorni al prezzo di 40 e ripetere di continuo la strategia confidando sempre nel fatto che il decadimento temporale tenderà ad intaccare maggiormente l'opzione venduta a breve scadenza rispetto alla comprata a lunga scadenza è quindi una strategia che viene frequentemente montata per beneficiare di un temporaneo disallineamento delle volatilità fra la scadenza breve e la scadenza più lunga infatti ci sono delle situazioni di mercato in cui è facile vedere prezzare l'aspettativa di un movimento a breve termine e questo provoca infatti una impennata è un aumento dei premi delle opzioni a breve termine e normalmente certe aspettative di breve non vanno ad intaccare le volatilità di lungo periodo che al massimo potranno subire soltanto un lievissimo aumento però che succede a seguito di questa impennata il trader può approfittare della situazione che nell'ipotesi che la situazione rientri nella normalità e le curve di volatilità ritornino ad assestarsi quindi a seguito del movimento l'opzione a breve potrà essere venduta non a 40 ma a 50 e compreremo l'opzione lontana allo stesso prezzo in quanto non avrà quasi subito l'entità del movimento si può quindi con queste posizioni fare trading di volatilità senza prendere nessun rischio di direzionalità semplicemente vendendo quello che è il differenziale di volatilità fra due scadenze e sfruttando una delle più conosciute proprietà della volatilità che è la main revertering ovvero la tendenza a ritornare nei pressi della propria media chiaramente la posizione può essere costruita anche al contrario ovvero comprando la scadenza a breve termine e vendendo la scadenza a lungo termine questo serve per sfruttare all'opposto le caratteristiche della volatilità ovvero serve per cercare di cavalcare un forte movimento direzionale oppure una forte esplosione di volatilità con un conseguente disallineamento dei prezzi fra le due scadenze grazie per l'ascolto ai prossimi video